Se stai cercando un lavapavimenti Dyson probabilmente rimarrai deluso del fatto che la Dyson non realizza lavapavimenti ma in effetti non è nemmeno tanto così perché se parliamo di lavapavimenti in generale esistono anche i robot lavapavimenti e la Dyson ha realizzato un robot che fa anche quello ma effettivamente per quello che riguarda il rapporto qualità prezzo ha dei costi esorbitanti e non è nemmeno sicuramente tra i migliori mentre invece realizza un mop piccolo mocio elettrico che viene aggiunto come accessorio in tutti i modelli dal V7 al V11 e che potete acquistare in modalità separata lo trovate in elenco sulla nostra classifica questo tipo di prodotto costa tra i 60 e i 90 euro più o meno a seconda delle modalità con cui lo comprate perché attenzione ce ne sono alcuni che vengono venduti senza il serbatoio d'acqua altri invece con accessori e serbatoio d'acqua incluso quindi arrivano intorno ai 89 euro qualcosa del genere quindi tutto qua se cercate un Dyson lavapavimenti sappiate che non esiste un lavapavimenti per la Dyson ma esiste questo accessorio che può essere aggiunto al vostro V7, V8, V9, V10, V11 e che ha un costo anche piuttosto contenuto se invece volete acquistare un lavapavimenti di un'ottima marca e comunque con un ottimo risultato nella nostra classifica troverete e quelli che vi consiglio io sono Bissell o Tineco Tineco è una marca emergente, Bissell invece è una marca affermatissima e sicuramente il Crosswave è se non il migliore uno dei migliori lavapavimenti che potete trovare anche se hanno dei costi leggermente più alti dell'accessorio per il Dyson però ne vale la pena, sono prodotti veramente straordinari ciao alla prossima